Ciao, vuoi partecipare ad un workshop gratuito su Nomada Sculpt? Ora puoi sul mio canale YouTube Milena 3D Art dal 3 al 24 luglio ogni mercoledì sera dalle 9 alle 10. Questo è un workshop gratuito dedicato ai principianti e a coloro che vogliono approcciarsi alla scultura 3D con un'applicazione davvero facile e fantastica che io voglio insegnarvi. Cosa occorre per partecipare? Una penna grafica come questa che trovate in dotazione con un iPod come questo e ovviamente l'applicazione che potrete scaricare sia per Android che per iOS. Quindi vi aspetto numerosi sul mio canale dal 3 al 24 luglio non mancate dalle 9 alle 10 di sera. Registratevi per rimanere attivati con le notifiche. Ciao!